Mi chiamo Davide Cesati, sono European Sales Manager per Catadopt Electronics, siamo produttori al 100% italiani di lenti per LED, siamo qua al Pro Light & Sound per mostrare la nostra nuova serie di lenti RGB, come potete vedere, abbiamo queste nuove lenti da 45 e 35 mm, sono serie che ci permettono di sviluppare beam che vanno dai 10 ai 40-50 gradi, abbiamo questo nuovo sistema di zoom, autofocus zoom, che permette con una lente da 40 gradi, applicando semplicemente un dischetto, di passare da 10 gradi e a una distanza di 7 mm 40.